Che fai? Sei pronto? Dov'è? Dov'è la tua camera? Il cavalletto? Il tripod? Ha un cappellino? Ha un po' di più. Beccati. Oh! Il piloto! Yeah, first impression. Oh! Unbelievable, man! What is that? Shoot! Come on now! Bravissimo! Bravissimo! Stai bravissimo! Sei già un rapper di c***o! Su le conne? No, su le conne! Su le conne! Spero come sta andando. Bene, bene! Ripi, bravo! Ti ascolta? Ti tratta di dire che sei un po' superstar, eh? Non è vero, non è vero. Adesso decidi tutto te, quindi fai qualcosa di cominciare. Tanto lo faceva uguale, eh? Non è che... Hi, I'm Brazil. This is Filippo. Where is Fernando? Fai un po' giù, fai un po' di cena, mettiti per terra. Un zilò più da te. Non sei naturale però così, eh? Non ho capito. No, ti senti, ti metti così... Continui. Sono loro le superstar. Adesso basta, mi stai annoiando. Spengo? in caso io approfitto